Ciao a tutti, io sono Alessandro Torazzi e sono qui per invitarvi ad un appuntamento molto importante il 5, il 6, il 7 giugno di quest'anno per il ventennale dell'Associazione Culturale Torraccia che io presiedo già da qualche anno. Che cos'è l'Associazione Torraccia? È un'associazione nata nel 1995, un gruppo di amici si ritrova intorno a un vecchio casale di fine 800, lo rimettono a posto e anno dopo anno fanno eventi, fanno cose, sempre intorno al mondo del volontariato. E quest'anno noi vogliamo fare questa manifestazione con un tema molto bello che è la gioia di stare insieme. E quest'anno abbiamo deciso anche di invitare il sindaco Ignazio Marino a partecipare proprio la mattina del 6 giugno. Ci sarà la fanfara della polizia, sarà una giornata molto bella e alcuni nostri ragazzi, sia della Scuola di Musica che dell'Associazione hanno preparato un cortometraggio dove faranno vedere la storia e l'evoluzione di questo antico casale da come era nel 1995, da come è stato prelevato e poi da come è diventato oggi. Ci saranno dei concerti, il venerdì sera faremo un concerto tributo ai Pink Floyd con Dark Side of the Wall. Sabato sera invece ricorderemo Pino Daniele con un grandissimo gruppo che viene da Napoli che si chiama Quando Good Good e la serata si chiamerà Un Home in Blues dedicato appunto a Pino Daniele. Mentre la domenica sera ci saranno i gruppi che suoneranno quelli vincitori della Scuola Soul e ci verrà a trovare anche il maestro Edoardo Vianello che canterà un pezzo con noi e con i ragazzi della scuola e finirà la serata la Kermess, un grandissimo comico di Colorado, un nostro amico che si chiama Alberto Farina.